Ben tornati a Spazio Salute e Sanità, siamo con il dottor Cesare Di Bari, direttore dell'unità operativa delle malattie infettive dell'ospedale Giovanni XXI di Bari. Parliamo di meningite, voi potete telefonarci al numero 080 501 9998, prefisso 080. Parlavamo appunto di meningite, stavamo dicendo la puntura lombare. Eh sì, come fare la diagnosi di certezza di una sospetta meningite? È ovvio, se io ho una broncopolonite richiedo la radiografia del torace. Se c'è un sospetto di meningite è obbligatorio fare una rachicentesi, cioè la cosiddetta puntura lombare, che come possiamo vedere da una diapositiva non è altro che prendere, significa prendere un po' di liquor, cioè un liquido che noi abbiamo, così che riveste il cervello e il midollo, prendere questo liquor ed esaminarlo. Ecco, nella successiva vediamo appunto la puntura. Sì, la puntura, vediamo un po' in maniera schematica come viene fatta. Voi vedete in questa diapositiva c'è questo ago che entra nello spazio intervertebale, cioè quello fra le due vertebre, si prende una minima quantità di liquido, di liquido cefalo-rachidiano e quindi si analizza e si vedono in questo liquor se ci sono dei segni di infiammazione, quindi un aumento delle proteine, un aumento delle cellule e soprattutto la cosa più importante è che con nuove metodiche di microbiologia siamo in grado anche di scoprire l'agente enziologico, l'agente causale, cioè il batterio o il virus o l'altro microorganismo che ha potuto causare questo tipo di infiammazione. perché questo è molto importante, queste nuove metodiche che ci permettono di fare una diagnosi che prima non riuscivamo a fare, soprattutto in quei soggetti che avevano già iniziato, che sono quasi tutti, una terapia antibiotica. Allora che cosa succedeva? Che la terapia antibiotica, anche se non riusciva ad eliminare il batterio, quando lo si metteva in coltura per far sì che questo batterio potesse svilupparsi e quindi anche con tempi lunghi, la presenza di antibiotico che era stato somministrato non ne permetteva lo sviluppo, quindi avevamo una diagnosi sicuramente inficiata da questo tipo di trattamento. Invece con le nuove metodiche vanno a ricercare, non è un esame culturale, cioè il batterio non si aspetta che si moltiplichi, ma addirittura anche se ha fatto la terapia antibiotica si va a ricercare con queste nuove metodiche la struttura, la particella anche disgregata di quel batterio per cui noi possiamo fare diagnosi con maggiore precisione. E questo è molto importante sotto l'aspetto soprattutto, non soltanto economico, ma soprattutto anche per la salute, per il paziente, perché siamo in grado, in base alla gente che ha prodotto questa infiammazione, di fare una terapia più mirata, invece di usare tre antibiotici, avere una terapia antibiotica cosiddetta empirica, cosiddetta astratta, andare a colpire il germe che ha causato quel tipo di meningite. La puntura lombare può essere pericolosa? Ma come tutti gli interventi così un po' traumatici, anche la stessa puntura intramuscolo può dare degli inconvenienti, però essendo un sistema diagnostico, un elemento diagnostico molto importante per fare una certezza di diagnosi, è importante non tanto pensare a queste complicanze. Io, in quasi 40 anni di attività, non ho mai visto una complicanza, però, ripeto, ci potrebbero anche essere delle complicanze, ma sono veramente rarissime. L'unica cosa, molto più evidente, è il fastidio dovuto alla puntura. Quando è guarita, ci sono delle sequele dopo la malattia o no? Diciamo che, tutto sommato, nel momento in cui la meningite è diagnosticata precocemente, la terapia ha avuto sicuramente degli effetti ottimali, di solito possono anche mancare delle conseguenze, delle sequele della meningite. Poi dipende anche lì dal tipo di batterio. Per esempio, l'opremococco, rispetto al meningococco, è meno aggressivo, però, siccome la partenza è quasi sempre dovuta a un problema di base come una sinusite, come un'otite e così via, può dare delle complicanze e soprattutto può dare della sordità. È difficile, anche se in un certo numero di casi, ci possono essere conseguenze di tipo neurologico, ma questo, se si ha, oltre alla meningite, anche un interessamento del cervello. Cioè, finché l'infiammazione rimane localizzato alle membrane che rivestono il cervello, sicuramente le conseguenze sono molto, molto banali e sicuramente non si ha. E possiamo vedere, posso, un'immagine del cervello? Sì, una complicanza che purtroppo, non dico frequente, però può capitare, è che in seguito alla meningite, cioè un'infiammazione che colpisce le membrane, ci sia anche una localizzazione nel cervello, voi vedete qui, in questa risonanza magnetica, in alto a destra, quella zona più chiara, come una specie di pallina, in alto a destra, quello non è altro che una complicanza della meningite, cioè oltre all'infiammazione delle membrane, si è avuta addirittura la formazione di un ascesso, quindi una raccolta di pus, a partenza sempre delle meningi, delle membrane che rivestono il cervello, questa infiammazione ha colpito il lobo frontale destro di questo bambino e quindi ha un ascesso cerebrale localizzato, ripeto, nel lobo frontale di destra. Quindi è una complicanza che si può avere in seguito alla meningite, anche con una terapia ben fatta, perché purtroppo, qual è il problema della meningite? È vero che si usano degli antibiotici, gli antibiotici hanno sicuramente migliorato la prognosi e il decorso di queste malattie, però la quantità di antibiotico che riesce ad arrivare nel cervello non è tanto quanto quella che noi troviamo nel sangue, quindi abbiamo bisogno di antibiotici che superano ed entrino nel cervello e soprattutto di quantità abbastanza intense. Questa è un'altra immagine? Sì, questa è un'altra immagine, però col mezzo di contrasto, dove si può ancora vedere meglio, questa è quella di prima, stesso soggetto, senza mezzo di contrasto, questo invece col mezzo di contrasto fa vedere quella lesione in alto a destra, nel cervello, che è proprio la presenza di un ascesso cerebrale che è conseguenza, complicanza di una meningite. Fortunatamente, ripeto, complicanze non molto frequenti. Ecco, abbiamo parlato di malattia, di sintomi, di diagnosi, ma si può prevenire la malattia? Certo che si può prevenire, si può prevenire grazie a due tipi, bisogna distinguere la prevenzione, in cosa consiste. Nel momento in cui c'è un caso di meningite, come dicevo prima, crea clamore, ansia in tutta la famiglia, soprattutto anche nelle scuole, le scuole protestano, addirittura chiudono le scuole, chiedono la disinfestazione, la disinfezione delle scuole e così via, che, ripeto, certe volte viene fatta più per tranquillizzare che non per necessità effettivamente epidemiologica per il caso che è avvenuto. Per quanto riguarda invece, esiste un alchemio profilassi fra tutte le persone che sono state a contatto, che hanno avuto uno stretto contatto con il paziente e questo soltanto nella meningite meningococcica e non nelle altre forme di meningiti. Certe volte si sente parlare di meningiti senza sapere l'agente causale della meningite e si parte con chiusura di scuola e così via. Invece bisogna sapere che non per tutte le meningiti è importante un alchemio profilassi. Come vedete in questa diapositiva, le misure di prevenzione sono alchemio profilassi, cioè antibiotici da dare alle persone che hanno avuto stretto contatto col soggetto ammalato e questo, ripeto, vale soprattutto per due tipi di meningite. Una meningite da hemophilus influenzae, che ormai non esiste più grazie alla vaccinazione che i nostri bambini fanno ai due mesi, tre mesi e poi sei mesi e poi un anno. Invece esiste una chemio profilassi nel caso di meningite meningococcica, cioè quella meningite che è causata dal meningococco. Quindi nel caso di meningococco che cosa si deve fare? Si deve prescrivere il medico, deve prescrivere chi ha avuto contatto stretto, poi vedremo in una diapositiva dove ho così... No, non abbiamo il tempo. Non abbiamo il tempo, quindi però i contattisti sono quelli che hanno avuto contatto diretto col paziente. È inutile fare questa prevenzione chemio profilassi a persone che abitano al piano superiore oppure nella scolaresca o in una classe diversa. Soltanto chi ha avuto stretto contatto col soggetto che è ammalato. Ecco, e il vaccino come si fa? Allora, come abbiamo risposto alla terza spettatrice che ci ha chiamato prima, questa che voi vedete nella diapositiva la chiamiamo profilassi, che possiamo tralasciare in quanto è un atto medico che interessa soprattutto i medici. Però quello che è più importante è sapere che esiste una profilassi per i contatti stretti con la somministrazione di antibiotici. Invece, quello che è più importante è sapere, come diciamo prima, che esistono dei vaccini che proteggono sia dall'opneumococco sia dal meningococco, che sono attualmente i germi più frequenti, soprattutto nei bambini, che possono dare le meningite. Recentemente c'è stato un vaccino contro il meningococco B? Come dicevo prima alla signora, esistono per il meningococco due tipi di vaccini, che sono quello monovalente, che va a prevenire la meningite soltanto quello causato dal meningococco di tipo C, cioè un unico monovalente, cioè mono, uno solo tipo di meningococco. Poi esiste un vaccino tetravalente, cioè contro quattro tipi di meningococco, compreso A, B, W e poi C, però escluso il tipo B, tipo B che attualmente circola dalle nostre parti e quindi purtroppo siamo scoperti per quanto riguarda il vaccino per questo tipo di meningococco, anche se nel giro di pochi mesi sarà messo in commercio anche il vaccino contro il meningococco di tipo B, quindi un nuovo vaccino che contiene anche questo temibile e attuale, più attuale, meningococco di tipo B, ripeto, che è escluso dagli altri, attualmente nei vaccini esistenti. Allora, niente allarmi, ma sicuramente molta attenzione a queste forme. Abbiamo utilizzato il nostro tempo, abbiamo delle interviste e parleremo di alcune manifestazioni del momento della broncopneumopatia cronico-ostruttiva e dei guastafeste che sono l'intestino e lo stomaco durante queste nostre feste ultime. Prego, partire.